Il 7% degli italiani ha vissuto il tumore. Grandi sono i passi avanti fatti in ambito medico e tuttavia è necessario mantenere alta l'attenzione sul tema. Inquinamento ambientale, raggi salari, agenti infettivi, alimentazione, vita sedentaria, cattive abitudini, eccessi insieme al patrimonio genetico sono tutti fattori che possono incidere sul rischio tumore e quando la malattia accertata diventa necessario anche intraprendere percorsi per il ritorno alla quotidianità attraverso la riabilitazione integrata oncologica. È un servizio che si vuole dare agli ammalati affetti da tale patologia per ristabilire, riequilibrare il proprio assetto fisico, psichico, emotivo, relazionale perché ovviamente si guarda non soltanto alla malattia ma si guarda alla persona nella sua globalità. Quindi ci sono tutta una serie di attività che sono abbastanza prelegate, che vanno dall'attività fisica all'attività psicologica ai incontri di yoga, ai incontri con la psicologa, ai incontri di estetica, passeggiate di gruppo il cui obiettivo è quello di fare tornare alla normalità delle problematiche con l'aiuto di tutti perché l'incontrarsi significa aprirsi anche al sociale, avere anche un aiuto reciproco. In via Salvati sin da oggi i primi appuntamenti che in sei mesi con incontri di vario tipo supporteranno sia i malati oncologici che i loro familiari. L'onconauta è quella persona che fa una introspezione, che riequilibra il proprio assetto alla luce dell'esperienza che ha. Il tumore per gli strepitosi risultati ottenuti dalle terapie e per il notevole bandaggio dato dalla prevenzione hanno consentito di ampliare enormemente l'aspettativa di vita dei malati oncologici. Per cui diciamo molto spesso noi guardiamo e ci soffermiamo soltanto agli aspetti fisici, però dobbiamo guardare non il malato e non solo il malato, dobbiamo guardare alla malattia per entrambe le problematiche, malattia e malato. Quindi avere anche un'attenzione per quanto riguarda tutti quegli aspetti, ripeto, emotivi, psicologici, relazionali, professionali, lavorativi che una persona ha. Nel corso del 2020 l'incidenza di questa malattia in Italia è stata stimata pari a 377 mila nuovi casi secondo quanto riportato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Prevenzione da un lato e riabilitazione integrata dall'altro possono fare la differenza.